Don Severo, sale a 10 il numero delle campane? Esatto, il nostro concerto già notevole di 8 campane viene arricchito adesso con due nuove campane che vengono a rafforzare un po' il patrimonio del nostro campanile, del nostro concerto. Allora, la parrocchia è quella di tutti i santi e quindi ce ne sono di santi da ricordare? Esatto, anche sulle campane abbiamo posto alcuni santi recenti, il santo Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II, il futuro, speriamo, Beato Don Seghezzi, servo di Dio, il Beato Nicola de Barré, che è il nostro patrono delle suore, che ha una scuola materna. È bello quindi anche attraverso le campane dedicate a questi grandi santi che hanno fatto e illustrato la vita della Chiesa. Non ultimo, il santo Grignon de Montfort, che è colui che ha dato un tono mariano a tutto il percorso della vita della Chiesa. Io sono Stefano Pagani, titolare della ditta Fratelli Pagani di Castelli Calepio. Ci occupiamo di restauro e manutenzione di impianti campanari dal 1523. L'intervento qui a Rovetta consiste nell'aggiungere due campane di tono Re e Do, di pesi 140 kg la più grossa e 100 kg la piccolina, e andiamo ad aggiungere queste due campane in un concerto formato da otto campane in Do, fuso negli anni 1950 dalla fonderia Ottolina. Il lavoro consiste, come potete vedere, dalla fornitura sia del bronzo sia di tutte le parti meccaniche annesse alle campane di nostra competenza, quindi ceppi, ruote, tutte le interagliature. Allora, le campane sono in bronzo con l'88% di rame e il 22% di zinco. Il lavoro che abbiamo eseguito per andare, cerchiamo ad omogenizzare le campane con quello vecchio, abbiamo fatto dei rilievi di nota e quindi abbiamo fatto anche uno studio sulle notte che attualmente erano delle campane precedenti, vecchie, per poterle fondere in maniera adeguata affinché tutto il concerto sia in tono omogeneo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.